Com'è l'atmosfera di questo festival? Mi sono trovato di punto in bianco con una famiglia, con Roberto che mi ricorda mia mamma che mi diceva mangia, mangia. È veramente un festival molto interessante e devo dire costruito con delle basi che sono le basi dell'affetto, dell'amicizia e soprattutto un festival dove si parla di fotografia che non è così scontato negli altri festival in Italia. Sono veramente contento di essere qui, sono felice di essere qua. Siamo stati contenti anche noi di avere tutti voi qui con noi. Prima che va via, per concludere, una battuta per concludere? Ivo Saglietti è famoso per sostenere una teoria abbastanza bislacca e particolare. Lui viene spesso a cena da me a Milano e le cene si concludono con la sua categorica definizione. Maurizio, diciamoci la verità, la fotografia è noiosa. Io sistematicamente rispondo che molti fotografi sono noiosi, però per fortuna non frequentano Lanciano. Per noi che la facciamo, sei in giro, lavori, ti stanchi, sei sempre molto concentrato. Dopo c'è un momento in cui sviluppi i negativi, poi i provini, poi fai le stampe, le stampine di lavoro. Dopo di ciò è la noia. Io non sono veramente annoiato, non vado più a vedere niente, nessuna mostra che mi annoia.